e ora di pranzo non sto mangiando niente di dolce e solo per dirvi che secondo degli studi degli studi ha mangiato un po' zucco e aumenta la depressione e lo stress e io non sto mangiando niente come una volta e nel video precedente che stavo facendo qualcosa io mangiavo solo una cosa solo un grafen, una ciorla o qualcosa del genere e basta quindi sono un telecollo che è quindi sono un video così tanto per fate attenzione a non mangiare un po' zucco se è possibile anche per evitare diabete